Questione di ore per l'investitura ufficiale. Al termine della riunione di lunedì, sindaci e amministratori locali hanno chiesto continuità al presidente Frattura, disposti a scommettere quindi su un Frattura Bis, disposti a metterci la faccia scendendo in campo da candidati. A loro ho risposto siamo pronti, dice il presidente in carica, pur consapevole che l'unità del centro-sinistra è ormai una chimera e il capo dell'esecutivo ci riprova. Sono del PD però, sono un presidente uscente del Partito Democratico, spiega, quindi ritengo giusto che gli organi si esprimano. Una riunione in programma a Campobasso, nella sede di via Ferrari, poi forse un passaggio ad hoc con le federazioni, ma è appunto questione di ore. Sto lavorando da soldato, aggiunge Frattura, la composizione delle liste è un esercito di qualità e più importante del generale. Chiuso comunque ogni dialogo col fronte di ruta e leva, da Molise 2.0 per ora ancora silenzio, il senatore dovrebbe parlare domani. Anche in quel caso il tema centrale è l'esercito. Quattro liste sono state annunciate. Si tratta di capire se saranno presentate e chi ne farà parte.